Ha fatto già troppo in queste partite, strano che l'ho visto giocare terzino fino a due mesi fa e non strusciava una palla, però si vede che con altri allenatori riesce a... Ecco, come mai secondo te? E' come Kulusevski, come chiunque, se ti fai giocare a pallone i giocatori giocano bene e se non ti fai giocare a pallone i giocatori giocano male. Fa cinque occasioni a partita il Frosinone, alla Juve non calciava in porta. Non è che lo dico io, non è un parere, non è allegri contro allegri, è un dato di fatto. Sule è il migliore in campo tutte le partite, cioè Frosinone ha girato Arrui, Baez, Ibrahimovic che è un altro ragazzo del 2005 da tenere molto d'occhio, Renier, Kasok, Vernazze, Barrenecea, Gelli, Brescianini, Garritano hanno giocato tutti, uno non esce mai, Sule, perché lo vedi quando uno è diverso dagli altri. Se lo metti al posto di Marchizza o di Oiono fa fatica, fa attaccante Sule, perché gioca a calcio in maniera divina.